Il procuratore generale della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila, Romolo Como, ha chiesto la conferma della condanna a 30 anni di reclusione emessa in primo grado a carico di Vincenzo Gagliardi per l'omicidio dell'ingegnere informatico Carlo Pavone, colpito sotto casa a Montesilvano con un colpo di fucile il 30 ottobre 2013 e morto il 16 novembre del 2014 dopo un anno di coma. Il PG ha quindi chiesto il rigetto del ricorso presentato dal legale di Gagliardi, l'avvocato Renzo Colantonio, che ha riproposto sostanzialmente la linea difensiva adottata in primo grado. L'imputato agli arresti domiciliari da diversi mesi in primo grado era stato condannato per omicidio volontario premeditato dal GUP del Tribunale di Pescara, Maria Carla Sacco, al massimo della pena, cioè l'ergastolo, ridotto però a 30 anni per lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Il procuratore Como durante la sua requisitoria ha sostenuto che le prove attestano la responsabilità di Gagliardi, oggi presente in aula. La difesa ha invece sostenuto l'innocenza dell'imputato facendo leva su alcuni elementi come ad esempio il coltello rinvenuto sul luogo del delitto, prova a suo dire, dell'innocenza di Gagliardi. La corte presieduta dal giudice Luigi Catelli ha rinviato al 20 maggio per le repliche la sentenza.